All'ospedale dell'Angelo è arrivata la macchina per la tosse donata dall'AISLA, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale e Amiotrofica. Il macchinario, altamente sofisticato, vale 4.000 euro e stimola il paziente a tossire per favorire l'eliminazione delle secrezioni e ritardare l'insufficienza respiratoria nei malati di SLA. Attraverso varie pressioni aiuta la muscolatura respiratoria e questo è utile a ritardare complicanze polmonari nella fase precoce della malattia, spiegato il primario di pneumologia Lucio Micheletto. Verrà gestito e azionato da fisioterapisti esperti e formati al suo utilizzo. La donazione rientra nel progetto terapia fisica e assistenza tosse in soggetti affetti da SLA e comprende altri 6.000 euro di donazione da impiegare in un nuovo progetto già in via di definizione. L'associazione AISLA voleva aiutare concretamente i malati di SLA che frequentano l'ospedale Mestrino, ha detto il direttore generale dell'ULS3 Giuseppe Dalbe. La scelta condivisa di investire parte della donazione di 10.000 euro in questo macchinario aggiungerà un ulteriore servizio ai pazienti che soffrono di questa patologia.